Scandali e cuori infranti, amici di Lady Gossip. Oggi ci immergiamo nell'epica storia d'amore di Greta Rossetti e Mirko Brunetti, nata e cresciuta sotto i riflettori di Temptation Island. I primi mesi sembravano un vero e proprio sogno d'amore. I due sembravano inseparabili, ma come spesso accade, il paradiso ha iniziato a mostrare crepe. La scoperta di Greta dell'incontro segreto tra Mirko e la sua ex fidanzata per Lavatiero alla Milano Fashion Week ha gettato un'ombra su questo idilio. Mirko non aveva riferito nulla a Greta, che si è sentita tradita, e ha espresso il suo disappunto sui social. Da allora, il silenzio ha avvolto la loro relazione, anche se recentemente Greta è stata avvistata con Eugenio Colombo, un suo ex flirt. C'è il sospetto di un ritorno di fiamma, ma Greta ha respinto queste voci, affermando che tra lei e Eugenio c'è solo amicizia. Nelle ultime ore, Greta ha risposto alle domande dei fan sulla sua vita sentimentale, ma ha mantenuto un velo di mistero, affermando che al momento non ha le idee chiare sulla sua relazione con Mirko. I cuori spezzati attendono risposte, ma Greta chiede pazienza, e per quanto riguarda Eugenio, sembra che il legame tra loro sia più forte che mai, nonostante la situazione complicata. Il loro legame è sopravvissuto alle turbulenze dell'amore. Greta ammette che il suo stato d'animo ha avuto alti e bassi, ma sta cercando di concentrarsi su se stessa. E ora, un nuovo capitolo si apre, Mirko Brunetti è stato legato a un possibile ingresso al grande fratello. La reazione di Greta? Sorpresa e silenzio. Cosa riserverà il futuro per questa coppia turbolenta? Amici di Lady Gossip, rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questa incredibile storia d'amore. Non ci saranno dettagli trascurati qui.